Rita Guerin è una icona del calcio femminile tecnico della nazionale italiana Under 17 e oggi in visita qui a Ravenna per questa amichevole contro San Zaccaria. Che partita è stata a suo avviso mister? Assolutamente un test importante per noi perché comunque la maggior parte delle ragazze non ha la possibilità di dare continuità al gioco nelle loro squadre, sono molto giovani quindi spesso sono poco impiegate, quindi per noi era una partita importante perché così diamo un po' di ritmo, un po' di condizione e trovare anche quegli automatismi di gioco che ovviamente vedendoci poco abbiamo bisogno di recuperare. Ecco, diversi gli impegni per la nazionale Under 17 anche qui in Romagna tecnico. Sì, siamo molto contenti, comunque la Romagna è un paese che sa dare grandi ospitalità quindi siamo ben contenti, speriamo di portare comunque in alto i colori del calcio femminile che si raccolgono sotto la stessa bandiera, di portare un po' di gente a riempire gli stadi perché è importante non solo per la nazionale ma anche per tutto il calcio femminile per dare un po' più di visibilità, credo. Ecco, qual è la condizione della nazionale italiana Under 17 mista proprio anche in previsione di questi importanti impegni? Ma allora, prima dell'impegno della fase elite avremo due partite amichevoli contro la Norvegia e il 9 e l'11 di febbraio e quindi quelle saranno due importanti test che ci metteranno nella condizione di capire dove siamo arrivati e cosa dobbiamo ancora fare. Il lavoro naturalmente da qui a marzo, oltre all'amichevole, sarà quello di precedere il raduno con una settimana di ritiro, quindi anche lì avremo un modo di lavorare e dare continuità a tutto ciò che abbiamo fatto fino adesso prima fase compresa dove comunque sicuramente le ragazze hanno brillato. Ecco, ampliamo un po' il raggio. Per quanto riguarda invece il calcio femminile in Italia cosa manca, cosa c'è da migliorare rispetto al calcio estero? C'è da migliorare una cultura sportiva innanzitutto una cultura che non riguarda solo il calcio femminile ma riguarda un po' lo sport praticato dai ragazzi quindi mi riferisco ai bambini e questo è un lavoro che va fatto insieme a livello di comunità, a livello sociale. Il calcio femminile naturalmente sta mettendo in atto una serie di strategie per il proprio sviluppo a partire anche da una grande mano che potrebbero dare le società professionistiche con la loro organizzazione, con la loro visibilità e il loro marketing e quindi il fatto di apportare queste modifiche al regolamento dove le società devono avere nel proprio organico delle ragazzine è under 12 quest'anno e poi via via si salirà anche con i numeri e con l'età e questo può essere un passo fondamentale per dare maggiore impulso a tutto il calcio femminile. E noi ce l'auguriamo davvero. Vivamente. La ringrazio. Grazie a voi.